Hola todos pepeños, yo soy Pepe, bienvenidos en Spagnoleggiamo ogni giorno alle 16 qui nella mia cameretta con un nuovissimo verbo spagnolo il verbo di oggi è guardar e attenzione non significa quello che state pensando non significa assolutamente guardare ma guardar in spagnolo significa salvare, conservare, custodire te guardo e mi corazón, ti custodisco nel mio cuore, avete visto? infatti molto spesso anche sui cellulari quando salvate un messaggio troverete scritto guardado mensaje guardado, salvato, quindi guardar non vuol dire guardare ma vuol dire salvare, custodire per oggi è tutto, vi lascio le slide di questo verbo anche sulla pagina facebook Corso di Spagnolo con Peppe ma potete seguirmi anche su twitter scrivendo Spagnolo con Peppe allo stesso modo su periscope Spagnolo con Peppe oppure su instagram GiuseppeGD e chiaramente su youtube mettendo magari un bellissimo mi piace, iscrivendovi e condividendo questa serie di video muchas gracias por ver este video chicos, hasta luego